Buonasera a tutti, oggi è mercoledì 7 dicembre, sono le 18.56 e chi mi conosce da qualche anno sa che ero solito fare un recap serale prima di tornare ad affrontare la giornata successiva. Ora, riprendo questa buona abitudine per riguardare un attimo che cosa abbiamo fatto oggi, che vi avevo detto che si poteva ancora iniziare a scendere, si doveva ancora valutare di chiudere il settimanale con una candela rossa e quindi guardiamo che cosa abbiamo fatto. Quando abbiamo vincolato il settimo t-3 a ribasso con questa candela alle 13.15 ho iniziato ad allertare le persone che avrei aspettato un rimbalzo perché dopo un primo t-4 poteva rimbalzare e fare un secondo t-4 prima di tornare e poi scendere. Che cosa è successo? Ho iniziato a seguire sotto ogni minimo con allarmi la posizione, quando siamo arrivati ad avere una candela che sembrava una shooting star piuttosto che un inverted hammer, mentre stavo mangiando mi sono rovinato tutto il pranzo, ho segnalato questo nel gruppo premium. Come vedete, 14.46 con la chiusura di questa candela qua, ho segnalato che sarei entrato short. Poi è successo davvero l'impossibile, anche HFT, anche il fatto che su S&P 500 hanno fatto una spike per chiudere il quarto ciclo giornaliero inverso. Ma torniamo a noi e guardiamolo così. Stava tutto andando veramente molto bene, stavamo scendendo come vedete, a un certo punto è arrivata questa candela verde. Aspetta un attimo. Ok, è vero che abbiamo lo stop attorno ai 24.380, però, ma che caspita succede? I dati erano già passati, erano alle 14.30 i dati più importanti. Poi è ritornata una candela rossa, tutti tranquilli. Successivamente, finalmente spike, ma in realtà era una candela rossa piena questa. Ho avuto il tempo di sentire l'allarme per la chiusura con target come minimo, quello a 24.214. Ho visto che la candela iniziava a svuotarsi e, come potete vedere sempre dal premium, siamo andati dopo una bella respirazione yoga arrivata appunto per il discorso della spike verde, siamo andati appunto in gain. Eccolo qua. Vedete? Spike verde. Gain. Lo so che ci mette un sacco di tempo. Eccolo qua. Ok, siamo andati in gain. Abbiamo chiuso al volo, eh. Chiuso al volo perché la candela, che era piena e rossa, ha iniziato poi a svuotarsi rapidamente, ha iniziato a rimbalzare e soltanto dopo è tornata a scendere. La size non è stata eccezionale come ingresso perché eravamo già oltre le 24 barre come tempo quando abbiamo poi fatto il rimbalzo. Era così comodo, sarebbe stato così comodo andare a fare la discesa dopo questa candela qua. In 26esima barra ha voluto fare quella verde, ma poi appunto il mercato è un attimo impazzito di velocità e siamo riusciti comunque ad andare in gain. A questo punto è importante capire, come avete sentito questa mattina, se questa candela di chiusura sarebbe stata rossa o verde. Perché? Per il fatto che, avendo una candela rossa, noi abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura del bisettimanale. Settimanale, non soltanto del settimanale. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei candele. Quindi, da domani, nonostante la violazione dello swing che vi ho dato che è fondamentale e che ci dice che potenzialmente dai massimi può partire un ciclo molto grosso, e noi dobbiamo aspettare i volumi come al solito. Adesso abbiamo una condizione persino per rimbalzare, per fare come minimo la partenza di nuovo settimanale, come, tra virgolette, massimo, persino dopo un bisettimanale e un altro settimanale. Un altro bisettimanale, scusate. Per cui, domani, inizia l'osservazione. Cosa succederà dopo questo magico pomeriggio di candele velocissime? Su DAX non posso farvi vedere l'ultima candela perché oggi manca, ma la situazione è praticamente la stessa. Anche qui abbiamo avuto movimento decisamente particolare. Qui vi regalo lo swing per la partenza di un T settimanale, come anche qui. Ok? Gratuitamente. Per cui, teniamolo d'occhio. Attenzione che però se scenderemo di nuovo sotto questo minimo cambierà tutto. Si sposteranno gli swing. E in base a questo, capite che noi capiremo facilmente se andremo a fare un ottavo T-3 e continueremo a scendere. Stessa cosa anche qui. Ottavo T-3 e continueremo a scendere. Oppure, se andando in violazione di questo massimo, torneremo a salire. Perché? Perché salire dopo la violazione di uno swing importante come quello di cui vi parlavo ieri? Perché, dato che c'entrano anche volumi e tempo, è vero che qui abbiamo quattro candele rosse che non vedevamo da... Che non vedevamo da tanto tempo. Perché bisogna tornare probabilmente qui. Bisogna tornare ad agosto per vedere un po' di candele rosse consecutivamente formate. Qua tutte verdi praticamente. Non cinque consecutive. Uno, due, tre, quattro, cinque consecutive rosse. Ok? Queste cose guardatele sempre. Abbiamo però questa roba qua che incombe anche un Golden Cross che potrebbe spingerci verso l'alto. Lo farà? Il Golden Cross arriva in ritardo rispetto al resto. Ok? Quindi lo disinnescheremo? Faremo un tottigioni sotto questo massimo in laterale per poi andarci a rivincolare verso l'alto? Perché ribadisco, lo swing deve essere sempre abbinato anche ai volumi e al tempo ciclico. Per cui anche nel caso del DAX, stessa identica cosa, però, ricordiamoci alcune cose. Ieri sera anche l'SMP500 ha violato lo stesso identico swing di inverso. Non è un caso. Stamattina l'ha fatto il MIB, che non l'aveva ancora fatto. Siamo finiti qui sotto. In apertura, tra l'altro. Ok? Anche il Nasdaq l'ha fatto, che ieri non l'aveva fatto. Abbiamo 4 indici su 4, tra cui i due principali americani, quello più importante europeo, che hanno fatto una violazione di un swing importante. Fatto bene a darvi un allarme, adesso però ricordiamoci che ci vogliono volumi e tempo ciclico per supportare quella violazione di swing. Per vedere la discesa che ci si aspetta ci possa essere. Ok? E' fondamentale che ci siano sempre queste tre cose insieme. Se non ci sono, possiamo avere raccordi. Ci tenevo a dirlo, in modo da farvi vedere che, nonostante delle robe strane con un metodo statistico-matematico, sappiamo dove mettere gli stop, non vengono toccati e andiamo a target. In ogni caso, ci portiamo a casa anche solo un piccolo game, perché la size non era grossa. E ci tenevo a ricordare, prima che poi possano succedere determinate cose, che sono tre gli elementi su cui contare. Se questa analisi vi è piaciuta, mettete un bel like e ricordatevi sempre che l'evoluta paga. Anche se dobbiamo aspettare del tempo, arriviamo poi a target, in qualche modo, anche se ci sono candele che ci vengono contro all'ultimo momento, robe strane, dati, non dati, eccetera, eccetera. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. Arrivederci! Grazie Grazie